Musica Continuano senza sosta i controlli amministrativi della Polizia di Stato nei locali pubblici disposti dal questore Giusi Stellino. Questa volta, a finire sotto la lente di grandimento dei poliziotti, è stato un bar del quartiere di Sant'Efisio. Nel locale, lo scorso venerdì 26 luglio, sono intervenuti il personale della squadra amministrativa, coadiuvata dalle volanti, dalla squadra cinofili, dalla squadra mobile e dal reparto prevenzione e crimine Sardegna. Sabato 3 agosto, la notifica della sospensione della licenza commerciale del locale per 10 giorni. L'esercizio, fanno sapere dalla questione di Oristano, già oggetto di precedenti controlli, costituiva da diverso tempo luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate e con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti. Le sanzioni amministrative combinate dal personale della squadra amministrativa nei controlli precedenti, unitamente all'accertata frequentazione del locale da parte di persone pericolose, ha reso necessaria l'adozione del provvedimento di sospensione, al fine di scongiurare futuri ed eventuali pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'utilizzo dello smartphone alla guida è diventato negli ultimi anni una delle piaghe più pericolose per la sicurezza stradale, fenomeno che riguarda da vicino tutti gli utenti della strada. Negli ultimi anni, infatti, il numero degli incidenti stradali e in particolare dei pedoni investiti ha registrato un sensibile aumento dovuto alla distrazione degli automobilisti, concentrati a guardare lo schermo del proprio smartphone piuttosto che la strada. Per contrastare il problema, che negli ultimi tempi ha interessato in modo rilevante anche la provincia di Oristano, la Questura ha pianificato per i mesi a venire dei particolari servizi coordinati di controllo del territorio, denominati no smartphone. Già nello scorso fine settimana l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, avvalendosi della collaborazione della sezione della Polizia Stradale e del reparto Prevenzione Crimine Sardegna, ha dato inizio al servizio effettuando numerosi controlli sulle auto in transito nell'abitato cittadino. Nell'arco di qualche ora sono state riscontrate numerose violazioni del codice stradale proprio in materia di apparecchi digitali durante la guida. La Polizia di Stato ricorda che è ammesso l'utilizzo di un solo auricolare e che la multa per guida con uso di radiotelefono o cuffie sonore ammonta a 161 euro, cui si aggiunge la sottrazione di 5 punti sulla patente, che diventano 10 per i neopatentati. Inoltre, alla seconda infrazione in un biennio, si applica la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e decade anche la possibilità di sconto del 30% della sanzione pecuniaria. Si sottolinea infine che il divieto messaggistica inclusa è rivolto anche a motociclisti e ciclisti, senza eccezioni. Francesca Loi, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Uristano, ha dato le dimissioni dall'incarico per ragioni strettamente personali, dovendo intraprendere una attività lavorativa che non le consentirebbe di conciliare lavoro e incarico pubblico. La giunta Luzzo perde un pezzo importante, un incarico, quello dell'Assessore Loi, svolto e vissuto con riservatezza e impegno, fuori dalle polemiche di basso profilo, che in questi mesi stanno caratterizzando la vita all'interno dei due palazzi del potere oristanese. È da escludere che il mese di agosto consenta di affrontare il tema di rimpasti e quindi la possibilità di definire nuovi scenari alla luce della mutata configurazione e composizione dei gruppi consigliari e del mutamento di posizioni da parte di diversi consiglieri comunali. Possibile quindi il congelamento di tutto e rinvio ad autunno di confronti e decisioni. È stato un weekend di fuoco niloristanese, in qualche modo c'era da aspettarselo, perché sia sabato 3 agosto sia domenica 4 agosto c'erano le due condizioni che rendono ideali i rughi, temperature altissime, previste anche oggi, e vento. Però non si capisce se gli incendi siano spontanei, innati da qualche distrazione o frutto dell'attività dei piromani. L'incendo più grave si è sviluppato a Paoli Latino, a ridosso della statale 131. La principale arteria dell'isola, tanto che la strada è stata chiusa al traffico per una decina di minuti. Il rogo, le cui cause non sono state accertate, è scoppiato all'altezza di Santa Giusta, avvicinandosi pericolosamente alla strada. Gli automobilisti, in transito oltre al fumo, si sono trovati davanti anche alle fiamme. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della polizia stradale, il corpo forestale e la protezione civile. La 131 è stata chiusa dal chilometro 114 al 119. Intanto a Santa Giusta arrivavano i mezzaeri della flotta regionale, un elicottero e il Super Puma che, lanciando bombe d'acqua, hanno arginato le fiamme. Il fuoco si è poi allontanato dalla strada. Grave incendio anche a Busacchi. Le fiamme hanno bruciato circa i 5 ettari di sugherette nelle campagne del paese. Nella zona hanno operato diverse squadre a terra della forestale, dei vigi del fuoco di Abbasanta e di Forestas, impegnati a mettere in sicurezza anche alcune aziende agricole. Sabato 3 agosto, altro grave incendio a Ruinas, nella zona di Nulampei, poco distante da paese, al ridosso della provinciale che conduce a Mogorella. Le fiamme hanno mandato in fumo circa 6 ettari di macchia bassa e pascolo alberato. Nella zona hanno operato vigi del fuoco forestale, le squadre di Forestas e diversi volontari. I vigi del fuoco di Oristano hanno infine spento un incendio in un'azienda agricola Tramazza, dove è andata a fuoco una bombola di gas all'interno di una cucina. Un fine settimana di controlli da parte della Capitaneria di Porto di Oristano, che nell'ambito dell'operazione nazionale Mare Sicuro ha effettuato 20 controlli nell'area marina protetta della penisola del Sinis, isola di Maldiventre, infliggendo 10 verbali di sanzione, di cui 9 per violazioni di norme poste a tutela dell'area ed 1 per mancanza dei documenti di bordo. Gli equipaggi hanno operato nelle zone di Tarros, La Caletta e Torre del Sevo e si sono dedicati anche a fornire consigli e indicazioni ai diportisti, alla verifica del rispetto dell'ordinanza sulla sicurezza di balneazione e di porto e alla repressione dei comportamenti non consentiti all'interno dell'area marina protetta, quali ad esempio l'ancoraggio sulle praterie di Posidonia Oceanica. Un'attività che, come rimarca il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, Antonio Frigo è fondamentale poiché è svolta a tutela di un delicato ecosistema di protezione dall'erosione delle coste, dove trovano nutrimento e protezione diversi organismi vegetali e animali, permettendo il mantenimento della biodiversità. Le attività di prevenzione, controllo e repressione dell'operazione Mare Sicuro proseguiranno per il resto della stagione estiva. Resta altalenante il destino dell'ospedale dei luoghi di Ghilarza tra promesse e impegni per evitare la chiusura del reparto di medicina. Si sostiene che sanitari di altre zone dell'isola abbiano dato la propria disponibilità che deve essere perfezionata da alcuni atti amministrativi con la ASL Unica e l'assessorato regionale alla sanità. In ogni caso si tratta di misure parziali e proprio a Ghilarza, dalla metà di questa settimana, è annunciata la chiusura anche del pronto soccorso, esponendo questo territorio al pericolo di mancata assistenza nei casi di emergenza. La non disponibilità di medici inizia a farsi sentire, in particolare per la medicina, con vuoti che si stanno aprendo anche in altri nosocomi della Sardegna. Forte e chiaro il grido d'allarme proveniente da tutti i settori sanitari operanti in campo psichiatrico sui bandi di concorso pubblicati il 19 luglio scorso che prevedono la possibilità di assegnare i ruoli dirigenziali dei centri di salute mentale anche agli psicologi. Un lo percepito anche dall'ordine dei medici di Oristano. Il presidente Antonio Sulis ha infatti condiviso pienamente la posizione della Commissione regionale sanità e chiesto all'assessore Mario Niedu l'allunamento dei bandi. È una possibilità consentita dalla legge, ma sconsigliata dal punto di vista dell'opportunità e soprattutto per la qualità dell'assistenza, ha affermato Sulis. Senza niente togliere alle molteplici professionalità che operano in campo sanitario, la tendenza attuale volta ad assegnare incarichi operativi e dirigenziali a figure non mediche per prestazioni prettamente mediche è una scelta che aumenterebbe ancora di più le difficoltà abbassando ulteriormente il livello di assistenza e le garanzie per i cittadini utenti. La festa del gusto, svoltasi alla fine di luglio nella Marina di Torregrande, ha di fatto tagliato le gambe alla concomitante sagra della Bottarga di Cabras che si è voluta anticipare per catturare i turisti e quindi allungare e irrobustire la stagione dell'accoglienza così come ha detto il sindaco Andrea Abis. Posizione incomiabile sulla quale verrà la pena tornare anche per capire meglio il meccanismo che presiede all'investimento complessivo della sagra indipendentemente che si tratti di fondi pubblici o di sponsor privati, di risorse si tratta e vanno bene amministrate e meglio gestite. Quel che fa discutere è l'irruzione per alcuni giorni nella Marina di Torregrande di una compagine che ha allestito un gigantesco street food attirando migliaia di persone servite in via prevalente con prodotti non sardi. Una toccata e fuga che avrà pur appagato gli astanti e guadagnato il giudizio favorevole dell'assessore comunale a turismo Stefania Zedda per la quale, come si è letto, l'evento di Torregrande è un nuovo modo di interpretare il rapporto di una cultura con il proprio cibo e con le proprie radici. Degustando in Sardegna sostengono alcuni critici carne argentina e pecora abruzzese. Tornano in città gli appuntamenti estivi della Rassegna raccontando la Sartiglia sotto le stelle organizzate dalla Fondazione Oristano. Il prossimo si terrà martedì 6 agosto alle 21.30 in concomitanza con Shopping Sotto le Stelle presso il Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia nella Via Eleonora. La storia e le storie della grande giostra equestre saranno rievocate attraverso una speciale visita guidata presso il Centro di Documentazione offerta ai turisti e ai visitatori presenti in città in queste sere d'estate. Nel corso dell'incontro la delegazione oristanese del rientro da Sini riferirà dell'ultima edizione della giostra croata dell'Alca e gli sviluppi dell'importante progetto per la rete delle giostre europee, mentre la professoressa Margherita Ursino dell'Università di Tolosa presenterà il progetto di collaborazione tra l'Università Francese e la Fondazione Oristano. Il Comune di Oristano mette all'asta due immobili di proprietà comunale. Si tratta dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Marconi e dell'area adiacente il cantiere comunale ad angolo tra Via Zara e Via Bon. La vendita dei due lotti è prevista con offerte in aumento e le domande devono essere presentate entro le 13 del 13 settembre 2019, mentre l'apertura delle buste avverrà il 24 settembre alle ore 12. Il dirigente ad interim dei servizi sociali del Comune di Oristano rende noto che la Regione Sardegna, con una annotazione, ha comunicato che la misura regionale REIS, reddito di inclusione sociale, non potrà essere erogata a favore di chi beneficia del reddito di cittadinanza. Pertanto i beneficiari del REIS, per poter ricevere l'ultima mensilità della misura, dovranno provvedere alla compilazione di un'autocertificazione attestante la mancata percezione del reddito di cittadinanza. La documentazione è reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, il servizio Informa Città è sul sito ufficiale del Comune e dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Oristano entro il 5 agosto 2019. Due nuovi medici di Medicina Generale hanno preso servizio a partire da giovedì 1 agosto, rispettivamente a Torre Grande e a Cabras. A Torre Grande il dottor Pietro Sanna aprirà l'ambulatorio presso Villa Baldino nel lungomare Eleonora d'Arborea. A Cabras il dottor Gian Nicola Panichi sarà operativo nell'ambulatorio di Via Custosa. Via libera ai lavori per sostituire un tratto dell'acquedotto al servizio di Samugheo. Il direttore generale di Abanoa, Sandro Murtas, ha infatti firmato il contratto con l'impresa giudicatrice che realizzerà le opere fondamentali per mandare in pensione la vecchia condotta grazie a un investimento di oltre 200.000 euro. Iniziate venerdì 2 agosto continuano fino a venerdì 9 alle ore 18.30 nella chiesa di Santa Chiara Oristano, le novene che precedono la festa in onore della Santa. Sabato 10 agosto alle 21 previsto il solenne transito della Statua della Santa. Il giorno seguente, dalle 9, la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Possantino. Alle 20 la celebrazione sarà invece tenuta da Monsignor Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano. Il Museo Diocesano Arborense, martedì 6 agosto alle ore 21, nell'ambito della mostra fotografica Scatti di Fede, propone un laboratorio per bambini dal titolo Alla scoperta dei luoghi, delle feste religiose e delle tradizioni popolari della Sardegna. I bambini, attraverso attività ludico-didattiche, come la realizzazione del calendario perpetuo, scopriranno le feste e le tradizioni popolari dell'isola. Grazie a tutti!